Le famiglie con componenti disabili sono arrabbiati per l'impossibilità di portare i propri figli all'interno dei centri diurni dopo il lungo periodo di fermo dovuto alle restrizioni causate dal Covid. I ragazzi raccontano, i genitori in conferenza hanno bisogno di riprendere subito le loro abitudini frequentando le strutture e i propri educatori. Alla ripresa di tutte le attività attualmente i centri diurni rimangono chiusi. Ieri ne è stato aperto soltanto uno, si dice che nei prossimi giorni potrebbero esserne aperti degli altri ma le famiglie in questo periodo hanno vissuto una situazione realmente drammatica. I ragazzi hanno cominciato ad avere reazioni anche abbastanza preoccupanti, dormono di giorno, vivono di notte, a volte picchiano i genitori, a volte ci sono delle mamme che sono veramente, veramente, veramente sfinite. Questi centri devono riaprire, questo è assolutamente necessario, fondamentale che avvenga al più presto. Noi è dal 26 di aprile che con il decreto del governo sappiamo che i centri sarebbero potuti ripartire, il 4 di maggio sarebbero potuti ripartire. Invece siamo qui che continuiamo ad aspettare le linee guida, queste linee guida che la regione deve scrivere e che non arrivano mai. Un problema evidenziato dalle famiglie riguarda il processo del tampone che i ragazzi sono costretti a fare a fronte di verificare la negatività al virus per poter accedere poi ai centri, cosa che ha causato in molti uno sciocco irreversibile e la difficoltà dei sanitari presenti al Codma di tenerli fermi durante l'esecuzione del tampone nasofaringe. I genitori chiedono espressamente che venga cessata la cadenza mensile per il processo dei tamponi per i disabili che risulta uno strumento estremamente invasivo. Sfido chiunque abbia già fatto il tampone a immaginare che cosa possa significare far fare un tampone ad un ragazzo con autismo. Significa tenerlo bloccato in quattro per costringerlo a stare fermo, provocando quindi una reazione spesso violenta e anche di shock, nel ragazzo e nella famiglia. Questi ragazzi sono stati quindi sottoposti obbligatoriamente a tampone quando di fatto sarebbe stata semplicemente sufficiente un test sierologico molto meno invasivo. E tra l'altro questo test dovrebbe in teoria essere ripetuto. Allora che cosa andiamo a chiedere? Che vengano cambiate queste linee guida, visto che sono comunque locali, comunque regionali e che in altre regioni non sono state fatte così. Nella filiera dello scaricabarile si lasciava l'ultima responsabilità ai centri di urni per riaprire e la condizione era che venisse scritto un progetto. Ora Itaca ancora non è riuscito a fare questo progetto, Itaca non riapre. Questo vuol dire che ci sono ragazzi che rimangono a casa, questo significa che ci sono genitori che devono o rinunciare al lavoro o pagare degli operatori per rimanere a casa con il proprio figlio. Quindi un ulteriore disagio. Allora il Comune che cosa fa in alternativa per sopperire a queste mancanze? Le famiglie che non possono portare i loro figli perché il centro Itaca è ancora chiuso, come potranno essere aiutate e sostenute?